Buonasera, buonanotte cari amici, direi uno cinematografo, cinema da vedere, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole. Luigi Dalife, che film ha fatto? Dice lei il titolo Nessuno si salva da solo, è convinto di questo? Assolutamente sì, Damon Kleeway Nessuno si salva da solo è un film corale che racconta la rotta migratoria delle Alpi occidentali al confine fra Italia e la Francia dove ogni giorno decine di persone provano a valicare le Alpi per lasciare l'Italia, per raggiungere la Francia o andare ancora oltre, il tutto in un contesto di montagna dove il fortissimo contrasto tra la montagna di giorno attraversata dai turisti sulle piste da sci e la montagna di notte che invece diventa un teatro di paura, di violazione dei diritti umani, anche di pericolo di vita e di morte come c'è stato purtroppo negli ultimi anni. Un film che ripercorre anche la storia di queste montagne che sono state attraversate da sempre da diverse popolazioni nel corso dei secoli e negli ultimi 200 anni decine di migliaia di italiani hanno cercato di valicare le Alpi per raggiungere la Francia, una storia che si ripete perché un po' le migrazioni sono un viaggio circolare dell'umanità. Allora, Chiara Nicoletti, Giulia Bianconi, Eva Carducci, Francesco Alò hanno visto il film e non solo, Chiara. Il film ha il pregio di usare la graphic novel per ricordarci una cosa che ci ripetiamo spesso, che siamo stati anche noi migranti e quindi dovremmo applicare un po' un'umanità per tutti. Giulia? Già, perché oggi guardiamo il fenomeno della migrazione con una prospettiva diversa e in realtà questo è un film che dà diversi spunti di riflessione attraverso un racconto a più voci e anche attraverso il mezzo appunto della graphic novel l'ho trovato interessante e forse ci può aiutare a pensare un po' di più alla solidarietà e alla tolleranza. È interessante anche come viene analizzata l'idea del confine, in montagna fondamentalmente di giorno non si sente e poi in realtà di notte c'è questo contrasto forte, quindi soprattutto adesso che si parla di confini è molto interessante. Francesco, vado. È proprio bello, sono 80 minuti che volano e sono bellissime le inquadrature della natura, una natura più spietata di noi esseri umani e quindi questo mi ha molto affascinato. Francesco Puma, Valerio Caprara, Sara Ricordati. Valerio, brevemente. Sì, è un documentario che ha dalla sua questo senso della natura fortissimo, dell'alta montagna e del corridoio di migrazione che diventa un corridoio anche di studio sulle reazioni della natura rispetto alle migrazioni dell'umanità. Non bisogna leggerci troppi significati perché lì poi casca l'asino un po' ideologico e demagogico. Sara, ricordati? Ha merito di ricordarci che il dramma delle migrazioni non si consuma solo nel Mediterraneo ma anche attraverso le montagne, crea questo legame ideale, struggente con gli italiani che dal sud Italia salivano dopo la seconda guerra mondiale per andare in Francia. È emozionante. Francesco Puma. Un bel documentario, molto forte anche in alcuni passaggi, soprattutto nella seconda parte, ambientato in questa linea di confine che si chiama proprio La Via Lattera, The Milky Way è il titolo originale del film. Di giorno hanno la catecistica e di notte, proprio come linea di confine per gli immigrati. E tutte queste micro storie sono molto forti, molto potenti e un documentario che merita senza ombra e dubbio di essere visto. Allora, i film usciti ieri nelle nostre sale. Da quello che è stato detto, Ramella, qual è il film che andrà a vedere? Quale film l'ha incuriosita di più di questi? Sicuramente l'ultimo, quello che abbiamo appena visto. Luigi Dalife. Ha sentito Luigi? Il suo film interessa, interessa molto. È contento? Mi fa molto piacere, molto piacere perché siamo una piccola produzione indipendente, un film fatto attraverso un crowdfunding distribuito dal Vasso e per noi è importante avere un sostegno appunto per far sì che il film raggiunga il più alto numero possibile di persone. Lei è di Torino, Luigi? Io sono crotonese di nascita, mi sono trasferito a Torino per l'università e sono rimasto a vivere qui. Quindi ha seguito il Torino Film Festival. Lo sa che il Torino Film Festival ha un nuovo direttore? Assolutamente sì. Allora, Ornella, Ornella giusto. Dei film dei quali abbiamo parlato, il film che l'ha interessata di più da quello che è stato detto? Quello sulla natura. Quello sulla natura. L'ultimo. Capolicchio, lei? Sono d'accordo anch'io. Questa volta è d'accordo? Assolutamente sì. Voi invece, oltre Odio l'estate, ovviamente, che andremo tutti a vedere, molti l'hanno già visto, voi? Nessuno si salva da solo, sicuramente. Sì. Sicuramente interessante. Tra l'altro, nella zona commedia, è anche un po' il tema del nostro film, perché nessuno si salva da solo, anche in commedia funziona, come idea, eh? Come frase. Come frase, sì, come pensiero. È proprio marzulliano, direi. Sì, e poi era l'ultimo. Siccome poi, mentre uno seguiva, seguiva uno per volta, l'ultimo ti rimane più in testa, perché è l'ultimo. Quindi c'è anche quel problema lì, che uno vive talmente al presente che, purtroppo, questo è il difetto. Il nostro amico regista da Torino sorride. Allora, mettiamo a confronto, per qualche minuto, due giovani registi. Guido Lombardi da Napoli e Luigi Dalife da Torino. Perché chiedo ad entrambi, fare il regista oggi, più gioi o più dolori? Guido. Innanzitutto grazie per il giovane che hai regalato. E' complicato, perché la nicchia, cioè gli spettatori sono un po' in diminuzione da quando ho cominciato a fare questo lavoro. Ho fatto un tipo di cinema, in particolare il primo film, Labba, educazione criminale, che raccontava di immigrati qui vicino a Castelvolturno. Come dire, che non incontrano, cioè che non hanno nessun carattere di commerciabilità. Quindi, in questo caso, il terzo film, non mi sono posto il problema della commerciabilità. La storia è venuta così come l'avevo pensata. Sono curioso di sapere se incontrerà il favore del pubblico. Tra l'altro, in questa settimana, dove c'è il Festival di Sanremo. Costruire storie è sempre un'impresa, un viaggio, che vale sempre la pena di fare. In questo caso è partita la prima idea ormai 12 anni fa. Penso che, semplicemente raccontando il tempo che ci è voluto per mettere in scena questa storia, si capisca quanto è un'impresa realizzare un film in Italia. Sentiamo Luigi. Andiamo a Torino. Luigi, da lì. Sì, sono d'accordo. Sicuramente è molto complicato. D'altronde, questa per me è una nuova avventura, il mio secondo lungometraggio. Ed è quello che amo fare, quello che voglio fare. Vedo chiaramente una potenza enorme nel riuscire a raccontare storie come quella di The Milky Way. Nessuno si salva da solo, come quella raccontata nel mio precedente film sul confine fra Turchia e Siria. Questo perché c'è bisogno, io credo, di trovare delle forme di narrazione altre. In questo il film documentario, questo è uno strumento importante che può naturalmente avvalersi anche appunto di diverse forme di racconto. Noi abbiamo scelto l'animazione, ma ce ne sono davvero molte. Il tutto naturalmente è un po' reso complicato dal sistema di distribuzione, di produzione che c'è in Italia non solo, ma che ci stiamo rendendo conto in questi anni come SMK Factory con la nostra produzione possiamo anche provare a ribaltare in qualche modo e riuscire a portare anche a un pubblico ampio e eterogeneo lavori indipendenti, coprodotti dal basso come The Milky Way. D'accordo.